Vieni qua, vieni qua. Prego. Ci sediamo? Siamo invitati per questo. Esatto. Buonasera. Buonasera. Il suo è qua, professore. Eccoci. Buonasera. Benvenuti e benvenute. Mi presento, io sono una giornalista della stampa, mi chiamo Simonetta Shandivashi e stasera ho questo compito di far chiacchierare e conversare due persone che conoscete molto bene, il professor Gustavo Zagrebelsky e Luis Sall, su tutto in verità. Ma partiamo dal confronto tra generazioni, questo è un incontro tra generazioni e in questo paese quando si parla di incontro tra persone di età diverse, che vengono da tempi diversi, che però convivono nel presente, si parla sempre di una guerra. io lo so bene perché io faccio parte di un'altra generazione ancora che è quella dei millennial che è costantemente in combattimento contro tutti, un po' perché è fraintesa, un po' perché ha ricevuto poco, è la generazione del disincanto. e quindi è una generazione che sente di non aver ricevuto e che però non ha neanche dato. E invece io prima ero a cena con questi due signori e li ho visti amabilmente chiacchierare come fossero amici, hanno parlato di tutto, di tutta apparenza. Quindi stasera adesso invece si litigheranno. No, invece era affascinante guardarli. Poi addirittura io non riuscivo neanche a distinguere quello che si dicevano perché sussurravano. Quindi non so che cosa si siano detti. Però abbiamo davanti una platea che immagino si aspetti molte cose, si aspetti anche che parliamo di libertà perché siamo all'interno di giorni che di libertà dibattono e perché io credo tra l'altro che entrambi per i lavori che fate abbiate un'idea diversa di libertà. Forse o meglio ne avete sperimentate diverse. La cosa che mi affascina stasera, professore, è esattamente il libro che lei ha, che è questo Senza adulti che io ricordo molto bene. perché è un libro che parla dell'unica forse verità che ci possiamo raccontare, che è una certezza dell'essere umano, e cioè che la vita è un mutamento. Però lei in questo libro dice anche che, proprio perché la generazione è continuo mutamento, noi viviamo in un'accelerazione e in una perdita dell'età della vita, in tutto un indistinto che ha portato alla scomparsa dell'età matura, l'età adulta, quella in cui si riconoscono le cose. e qui invece c'è il rappresentante di una generazione che, vista da qua, dai miei quasi 40 anni, quasi, è una generazione invece matura, molto adulta. Prima ce lo dicevamo, no? Una generazione un po' bacchettona addirittura, molto più salda, che è vero che non sente il futuro, però non sente di avere un futuro, però questa cosa non l'annichilisce, certo la deprime, però non l'annichilisce. Io invece arrivo da una generazione da questo punto di vista molto diversa, che un po' nell'Apocalisse e nel ci hanno rubato il futuro si è adagiata. Allora, professore, lei invece, il futuro per lei che cos'è stato e l'età matura? Cominciamo così. Cominciamo con il microfono che non funziona, è così che cominciamo. No, funziona. Diciamo, purtroppo funziona. Io vorrei cominciare, poi veniamo alla domanda, con contrapporre le età. Scusate, sto in piedi perché sono stufo di starsi qui. Va bene, siamo felici. Va bene. La libertà. La libertà, esatto. La libertà che guida il popolo. Sì, guida me. Detto questo, è un'abitudine classica dividere la vita degli individui tra giovinezza e vecchiaia. Poi abbiamo scoperto l'età matura, l'età di mezzo. Ma vorrei cominciare con leggervi alcuni passi che ci fanno capire come questa contrapposizione viene da lontano e permea il nostro modo di intendere l'esistenza e i rapporti tra vecchi e giovani. Non direi tanto tra generazioni, poi magari sul concetto di generazione potremo discutere. Allora, cominciamo dalle cose più classiche di questo mondo. Platone. Tutti noi conosciamo Platone. Che i più vecchi debbano governare e i più giovani ubbidire. Questo è chiaro. Così, questo è chiaro. Gli pare chiaro? E poi, sempre Platone, i nostri figli dobbiamo abituarli da piccoli ai giochi più conformi alle leggi, riflettendo sul fatto che se i fanciulli nei loro giochi si sottraggono a questa disciplina, è impossibile che da essi vengano su uomini ossequenti alle leggi. E ancora, a proposito delle buone maniere, l'obbligo dei più giovani è tacere. Come vuole l'educazione. Tacere in presenza dei più anziani. Nonché quello di cedere loro il posto levandosi in piedi. Di avere cura e rispetto dei genitori. Di seguire l'uso comune nel tagliarsi i capelli. Questo siamo nell'Atene del IV secolo o V. Insomma, siamo lì, più o meno. Nel modo di vestire, di portare le scarpe. Di tutto ciò, insomma, che riguarda l'acconciatura del corpo e molte altre minuzie dello stesso genere. E poi, la musica. La musica. Ah, la musica, dice Platone. Che potenza terribile. Ogni genere nuovo di musica bisogna vietarlo. Come cosa pericolosissima. Poiché non c'è caso che i modi musicali mutino senza un mutamento delle leggi dello Stato. La musica è sovversiva, in sostanza. E quindi noi vecchi preferiamo Mozart e Beethoven che non la musica che fate voi. E infatti, per via di questa licenza, si insinua, senza che uno se ne avveda, il disordine. Si insinua come uno svago. Quasi che non faccia nulla di male. Ma in realtà, penetrando insensibilmente, via via, si insinua nei costumi e nelle abitudini. E da questi, con forza sempre maggiore, penetra nei rapporti tra le persone. E da questi, passa nelle leggi e nelle istituzioni. Con un'incredibile sfacciataggine. Fino a sovvertire da ultimo ogni diritto, pubblico e privato. La forza della musica. E questa è la versione pro-anziani, diciamo così. Abbastanza chiaro. Di duemila anni fa, sì. Sì, ma per esempio, quando io entro a fare lezione, se i miei studenti si alzassero in piedi, io sarei contento. Anche adesso. E non si usa più. Adesso rovesciamo il quadro. E passiamo al 1500. Ed è una bellissima citazione, questa volta di Machiavelli, che voi tutti conoscete, che è un elogio della giovinezza. È sempre che lo trovo. E non la trovo. Quindi sono costretto a improvvisare Machiavelli. Noi ci fidiamo. No, è questo. Io giudico bene questo. Che sia meglio essere impetuoso che rispettivo, cioè rispettoso. Perché la fortuna è donna. È necessario, volendola tenere sotto, batterla e urtarla. E si vede che la si lascia più vincere da questi che da quelli che freddamente gli anziani procedono. È però sempre come donna e amica dei giovani la fortuna. Perché sono meno rispettivi, più feroci, con più audacia la comandano. Questo è un bellissimo elogio della giovinezza. Un po' sessista, per dire la verità. Dunque... Però noi contestualizziamo. Certo. Dunque, i vecchi sono paurosi, conservatori, i giovani audaci e innovatori. I vecchi sopravvivono, i giovani vivono. Perciò largo ai giovani. Ecco, credo... No, cosa applaudite? Platone o Machiavelli? Facciamo Machiavelli, credo, no? Più Machiavelli. Sì, beh, suona meglio Machiavelli. Suona un po' meglio Machiavelli. Però sono entrambe vere, diciamo. Per esempio, come diceva Platone, che il giovane deve stare in silenzio quando parlano gli adulti. Penso sia anche giusto a volte, come ho fatto finora, nel senso, in questo momento. Cioè, hai appena dato degli anziani a tutti e due, non so se ne rendi conto. Giustamente qui col professore c'è da imparare, diciamo, dagli adulti, dagli anziani. Però non vedo una grande differenza, anche perché lei è stato giovane e io sarò anziano. E siamo nello stesso secolo, nello stesso paese, nello stesso pianeta. Quindi non siamo così diversi, secondo me. Stiamo vivendo lo stesso tempo, no? Poi lei ha vissuto, di sicuro, delle esperienze totalmente diverse dalle mie. Ma possiamo insegnarci qualcosa a vicenda, assolutamente. Forse più lei a me che io a lei. Non esagerare adesso. Nessuna piangeria. Perché in realtà noi viviamo in un tempo in cui le persone anziane si sentono messe fuori gioco. dallo sviluppo tecnologico, dal fatto che voi usate i social media, dal fatto che noi abbiamo, io parlo per me, ma forse difficoltà a usare queste diavolerie e ci dobbiamo rivolgere a voi. Cioè stiamo diventando una generazione da questo punto di vista impotente. Ci avete scavalcato con una velocità straordinaria. Sì, è vero. Sull'insegnamento è vero. È vero perché quando magari un adulto poteva insegnare qualcosa al nipote, adesso spesso è viceversa, no? Però da giovane sento che il giovane è la minoranza. È il giovane trattato come giovane. Infatti io penso che in questo paese in particolare, ma credo che sia una questione che accomuna tutto l'Occidente, siamo, a differenza del senza adulti, la popolazione predominante è quella degli adulti e invece quelli messi da parte sono proprio i giovani e gli anziani. Entrambi però, come dire, sempre corteggiati da questa retorica accomodante, per cui gli anziani sono i saggi, che però nessuno ascolta mai. c'è questo paradosso, la difficoltà di ascoltarli poi, questi saggi, ammesso che la vecchiaia sia l'età della saggezza, su questo poi potremmo discutere. E invece i giovani, per quello che diceva prima Platone, sono il futuro, sono impetuosi, Machiavelli, scusate, sono impetuosi, sono la novità, quelli che inventano, che creano, che portano un nuovo mondo, non semplicemente lo creano, ma proprio lo portano. Eppure, viviamo in un mondo che fa fatica a dar credito tanto agli uni quanto agli altri. Quindi questo vi chiedo, no? Che difficoltà, se la sentite anche voi questa difficoltà, io lo vedo chiaramente davanti a me, che è un mondo fatto per gli adulti e che invece non ascolta queste altre due età della vita. Bisogna definire più che altro chi sono i giovani e chi sono gli adulti, no? Perché in Italia mi sembra che i giovani siano giovani fino a 45 anni, 50 anni. Allora sono giovani. E i giovani non hanno, alla fine ci sono giovani che conoscono dei giovani più adulti di adulti e viceversa. non so se è l'età anagrafica o un modo di pensare. Ma come mai voi siete così seriosi e tu sei così composto? Ma ora perché siamo... Prima mi dicevi, no, noi siamo... No, non è vero. Prima a tavola ha detto noi siamo quelli che dicono ai nostri genitori non si può dire. La mia generazione è un po' più bacchettona penso di quella almeno dei nostri miei genitori perché i miei genitori erano negli anni 70 mi sa che erano un po' un periodo hardcore se vuoi. Io sento molti miei coetanei o anche più piccoli che dicono ai genitori come bisogna parlare, capito? Ma questa parola non si può dire, questa cosa non si può fare e l'adulto dice La raccolta differenziata si fa in un certo modo cioè voi siete portatori di una nuova... Io non so se siete bacchettoni però certamente portatori di una nuova sensibilità sì. Sì. Io non... Tu no. Non particolarmente no. Diciamo, oggi qui rappresento un po' i giovani ma in realtà rappresento me stesso non so i giovani come dicevo prima non so chi siano i giovani i giovani sono sono tra di noi ma come è fatto un giovane cosa dice un giovane cioè davvero ci sono ma poi in che città che cosa non riesco a definire un giovane secondo me non c'è una la categoria non non riesco a vederla proprio come dicevo prima stiamo tutti convivendo nello stesso periodo e sì è un periodo strano dato dalla tecnologia no? Cioè la tecnologia diceva prima il professore è la più grande differenza forse al momento tra le generazioni ma per il resto siamo tutti sulla stessa barca sì sono d'accordo con te sul fatto che i giovani si sentono un pelo ghettizzati in Italia forse poi non so all'estero perché siamo chiamati i giovani ecco perché i giovani sono i giovani si fanno i festival per i giovani i comuni fanno le cose per i giovani dovremmo parlare ai giovani ma i giovani sono umani come noi questo è il fatto sono persone come come gli adulti e andrebbero trattati come tali invece non so se è più comodo se sia più comodo schematizzare dividere in categorie però chissà ci sono giovani e giovani io per esempio non ho fatto l'università sono un giovane che non rientra in una buona fetta della categoria dei giovani che meritano di essere trattati diversamente da me nel senso non sono toccato dagli stessi problemi dei giovani capito ne ho altri professore lei con i giovani ci ha lavorato ci lavora io ci lavoro e mi trovo benissimo e devo dire che ho fatto per più di 50 anni il lavoro il mestiere più bello del mondo perché avevo a che fare con i miei studenti che non voglio dire forse mi hanno costretto a rimanere un po' giovane ecco perché impari molte cose perché c'è poco da dire per quanto tu abbia fatto un tentativo per dire che siamo tutti uguali non siamo tutti uguali quando uno entra in una classe si accorge della differenza che c'è nella percezione delle cose nel modo di vedere il mondo nelle difficoltà che i più giovani incontrano ora è vero che i giovani sono diciamo così un po' coccolati sotto certi aspetti noi stessi entrando qui non so se anche voi ma io ho chiesto a qualcuno che mi accompagnava ci sono tanti giovani stasera perché è qualcosa se ci sono tanti giovani riteniamo che la serata abbia successo se ci fossero solo persone della mia età diremmo va bene questi qui cosa possiamo sperare ancora da loro se invece ci sono tanti giovani speriamo di incontrarli e infondere qualche cosa ciascuno dal proprio punto di vista per andare avanti guardare il mondo criticare il mondo insomma energie vitali ora lei diceva Luis ci diamo rigorosamente però a cena si sono dati del tuve lo dico no no ho fatto fatica non ho dato del tuve gli adulti se voi ci riflettete cioè è vero io avverto molto chiaramente la differenza tra il mio modo di pensare il modo di pensare per esempio dei miei studenti cerco di imparare cioè se volete di non fossilizzarmi no non incartapecorirmi non dire non capiscono niente solo io ho vissuto ho visto e gli altri no perché il mondo è fatto da tutti come dici tu come dice lei siamo tutti sulla stessa barca ma ognuno ha i suoi compiti ecco però se ci riflettete viviamo in un mondo in cui sembra che ci sia posto solo per la gioventù guardate la pubblicità dei prodotti che vengono reclamizzati nella televisione sono tutte pubblicità che invitano quelli avanti in età prima voi dicevate 40 anni 45 altro che a 60 anni a comportarsi da ragazzi e poi che cosa succede mentre una volta classicamente si diceva c'era l'infanzia c'era la giovinezza c'era la maturità e poi c'era la vecchiaia c'era un arco continuo adesso a me sembra guardandomi attorno che ci sia una sola linea che è la giovinezza portata avanti fino all'estremo fino a quando non hai ancora le stampelle quando hai le stampelle è difficile dire che sei un giovane e poi c'è il crollo abbiamo perso l'età di mezzo l'età di mezzo è quella in cui si dovrebbero mescolare in maniera feconda sia le energie di cui parlava Machiavelli sia una certa non voglio dire saggezza perché la saggezza ma è una certa esperienza delle cose ecco l'età di mezzo si è dissolta e questo secondo me è un gravissimo danno forse l'alleanza tra giovani e vecchi potrebbe essere proprio rivolta a ricostruire la dignità dell'età di mezzo con le sue abitudini i suoi modi di pensare dove ci sia un rapporto fecondo tra le due cose non il come dire voi non capite niente qualche volta viene voglia anche di dirlo e d'altra parte anche dai più giovani dire ma voi oramai avete fatto il vostro tempo avete solo da aspettare che arrivi la vostra ora siete cresciuti un po' troppo in fretta mi permetto di mettermi dentro e lo chiedo a uno che a 25 anni lo sappiamo sono finito ormai no però ne parlavamo prima ha una responsabilità grande non appena parla certo questo potrebbe essere un grande tema del nostro incontro cioè tu quando parli ha condizioni tante persone quelli come voi che sono riusciti a entrare in sintonia con un numero straordinario di vostri coetanei cosa che noi della nostra età che non avevamo i vostri strumenti ma non eravamo neanche capaci non avevamo neanche in mente una cosa di questo genere ce lo saremmo sognati perfino i nostri uomini politici vi devono invidiare per la capacità di catturare catturare attenzione catturare interesse ecco la domanda che io che io le farei ed è una domanda seria qui faccio la persona anziana una domanda seria questo vostro straordinario potere chiamiamolo così vero e proprio potere in vista di che cosa lo avete costruito e lo state coltivando ecco io non rappresento come dicevo prima non rappresento no no tu rappresenti se no non ti avremmo invitato oddio no è che non saprei che categoria perché non so se qui c'è scritto avevo letto influencer allora diciamo che spesso il fine dell'influencer è fare dei soldi e avere della visibilità per convertire in pubblicità e fare dei soldi ecco ma ti soddisfa questo? e quello non è il mio fine poi dovete prendermi sulla parola il fatto è che nel mio caso sento che sia stato un effetto collaterale un circolo virtuoso per cui ho iniziato a fare i video che mi sono sempre piaciuti e sono piaciuti e ho iniziato ad avere un grande seguito quindi mi sono trovato con una responsabilità ma diciamo che quando ragiono su che video fare non ragiono sulla quantità di persone che lo andranno a vedere e sulla responsabilità e sui rischi che quel video può sulle ripercussioni che quel video può avere sul mio pubblico io penso a che idea di video fare capito? sto chiuso nella mia casa nella mia camera e penso sarebbe carino adesso andare da Bologna a Firenze in questo modo questo è il mio processo logico poi quando pubblico il video e fa due milioni di visualizzazioni o centomila lì la responsabilità è nelle mani di quello che il pubblico percepisce o recepisce non sento la responsabilità mentre creo ecco perché in particolare io non non mi trovo a fare delle poi dipende dalle situazioni ma mi sento di essere una persona abbastanza perbene ecco quindi sono abbastanza sereno che se faccio qualcosa mi auguro che non abbia degli effetti negativi poi l'effetto farfalla può succedere scusa un momentino non avere effetti negativi è un conto ma chiedersi se può avere degli effetti positivi quello sì 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 però non ragiono che genere che genere perché tu dicevi fai delle cose che ti soddisfano naturalmente perché ti piacciono il primo a cui piacciono le tue cose sei tu e lei poi guarda caso ci sono alcuni milioni di altri che stanno a guardarmi ecco ma di rispetto a questa folla di sostenitori di seguaci di followers come dite voi della nuova generazione non c'è una responsabilità sociale questo perché lei diceva prima con estrema chiarezza cosa fanno questi influencer conquistano il consenso fanno soldi hai detto tu brutalmente io non avrei usato un'espressione così così forte e cercano di rimanere sempre sull'onda del successo il quale successo per far soldi diciamo così si trasforma in supporto della pubblicità commerciale ecco ma voglio dire sto facendo un discorso serio da tipo Platone basta questo il fatto di avere questo straordinario potere di influenza non implica anche l'assunzione di una responsabilità generale rispetto alla società perché scusa voglio aggiungere alla lunga questa posizione rischia di essere estremamente stressante perché se uno ha un obiettivo sociale punta diciamo politico culturale ecco un obiettivo culturale punta su quello oggi si avvicina all'obiettivo domani si allontana ma c'è sempre il giorno dopo per per ricominciare mentre questa questa posizione di chi vive in fondo del del successo del mero del piacere e rischia rischia grosso rischia che domani ci sia uno scivolone dopodiché tu non conti più niente o perdi ecco questo anche non solo dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista della creazione del sé come direbbero i filosofi forse non basta ecco allora hai capito che cosa e poi è chiarissimo c'entra benissimo non c'è scritto tempi liberi libertà è esattamente quello il punto è spaventoso che l'influencer abbia il potere di cambiare le opinioni cioè lei vorrebbe che io avessi la possibilità vorreste dare a me la responsabilità di mandare dei messaggi che cambiano centinaia di migliaia di ragazzini messaggi in cui credo io io non lo farei cioè perché magari ho una ho una visione veramente folle del mondo che un po' è così scusi però guardi che anche senza volerlo lo fa in un certo senso si dipende da quello che poi fa il personaggio cioè nel mio caso io faccio l'intrattenimento l'intrattenimento mi nascondo dietro all'ironia quindi diciamo che me ne lavo le mani in alcuni casi faccio una cosa un video simpatico e posso dire poi posso metterci dei messaggi assolutamente lo faccio ma il fine non è portare avanti la mia idea di mondo perfetto più o meno nel senso che il video è fatto da me secondo il mio gusto e diciamo che proietto sì la mia idea il mio mondo nel video però è pericoloso è pericoloso che si chieda a chi ha una grande visibilità di mandare il proprio messaggio e più che altro oppure di sapere di impedirgli anche di mandare un certo messaggio a proposito di libertà cioè come si può come si può influenzare l'influencer come si può fargli dire la cosa giusta è quello no ma l'influenzato mantiene la sua libertà di valutare il messaggio che riceve no ed è chiaro mi sembra anche giusto che rispettiamo i ruoli una cosa è l'intellettuale che fa scrive libri l'altra cosa è il politico che l'altra cosa è colui che intrattiene intrattiene vuol dire che tiene con sé tiene con sé attorno a che cosa al mero divertimento poi diciamo così anche effimero no perché non oppure l'intrattenimento è riunire attorno a sé delle persone libere di accogliere anche di interpretare ciò che ricevo no ma sapendo che Luis rappresenta un certo mondo giovanile no un certo mondo di contenuti in questo senso sarebbe un compito fondamentalmente culturale e io porto avanti delle cose porto avanti il mio stile di vita diciamo volente o nolente la palestra curare il proprio corpo poi glielo dico mi vergogno di dirglielo io ho scritto un libro professore non mi vergogno ne vado fierissimo si chiama il luismo è il mio movimento si chiama scusa il luismo il movimento luista un po' autoreferenziale sì un po' no allora sono interessanti i punti del luismo il messaggio effettivamente lo lancio è vero al primo punto c'è voler bene alla mamma voler bene alla mamma questa entità che nel senso c'è il messaggio il primo no non è un messaggio ci sono dieci dettagli una sorta di vademecum giusto sì al primo punto di questo luismo che è una filosofia di vita del luista il luista è un mammone è un mammone esatto sì sempre là stiamo il luista è un mammone finalmente finalmente è stato svelato ci sono altre a senso dell'umorismo si prende cura del proprio corpo è tutta una serie di eh no te ne stai dimenticando una bella oddio perché invece secondo me ha senso in questo discorso che stiamo facendo non ci sono problemi ma ci sono soluzioni giusto allora raccontacela perché è un bel è una bella utopia però invece i problemi ci sono sì i problemi ci sono ci sono però e c'è sempre una soluzione sì nel senso che se il problema è irrisolvibile secondo il luista me ne lavo le mani perché non so eh ma il luista sei te e ci provo a essere un luista e se non si può risolvere il problema si risolve il nostro modo di approcciarci al problema capito cioè non non sentirti soverchiato dal problema cioè convivere anche con il fatto che un problema non si risolve esatto ok allora nella vostra discussione di prima professore io mi permetto di dire una cosa allora ma come mai noi agli influencer ai ragazzi che hanno un pubblico così vasto chiediamo conto di quello che fanno chiediamo necessariamente di essere esemplari perché lui ha ragione quando dice che fine fa la mia libertà questo fatto di assumersi necessariamente la responsabilità di tutto quello che si fa si dice si porta avanti non può diventare anche una gabbia perché significa anche poi in fondo relegarsi nel messaggio sempre rassicurante quello che ci dovremmo aspettare da chi ha un pubblico non è invece anche l'inaspettato a volte anche l'errore perché il messaggio rassicurante io auspicherei viceversa che dalle vostre voci così seguite vengono continue provocazioni creazioni di inquietudine però se diciamo che devono essere responsabili con lo sfondo della mamma perché la mamma effettivamente rassicura nei confronti delle inquietudine eccessive quindi non voglio non voglio toglierti questa ancora di salvezza mia mamma è un'inquietudine cioè la mia in particolare stanga i sogni la mamma ti porta coi piedi per terra quindi è una bella certezza la realtà la mamma è la realtà no ma il mio discorso è molto semplice molto semplice avete un enorme potere che non è solo il divertimento l'ironia il piacere del momento chi ha in una società democratica diciamo faccio di nuovo in una società democratica la società ha il diritto di chiedere a chi esercita un potere il chiarimento sul senso del suo potere cioè la sua responsabilità giustissimo infatti ma questo è un tema che mi è sempre anche quattro anni fa quando venni qui alla Biennale Democrazia parlammo della responsabilità mi sa in bolle di visibilità si chiamava hanno sempre dei nomi tempi liberi generazioni di dialogo bolle di visibilità e parlavamo della mia del fatto che sarei scomparso proprio per perché ironizzavamo sul fatto che su internet la vita di un creator di chi fa video è brevissima proprio perché effettivamente spesso non c'è della sostanza modestamente sono ancora qui dopo da quanti da quante anni sei anni è sulla scena sette anni sette anni è un tempo eterno su internet è come se fossero crollati degli imperi effettivamente appunto e tu sei sempre qui sono qui perché ho provato il più possibile non seguire il dio denaro che di solito è quello che fa a girare internet le piattaforme social che rendono famosi i cosiddetti creator sono dio nel senso che in base a quanto li fai guadagnare ti fanno salire di ranking di potenza e di visibilità quindi sei un po' nelle mani degli altri no? assolutamente perché all'inizio credi di essere in controllo del tuo pubblico perché effettivamente è meritocratico internet se non piaci scompari se piaci sei visto però com'è che devi piacere? devi piacere tenendo le persone incollate allo schermo e il più possibile le persone nella piattaforma che ti ospita quindi più tieni le persone su youtube più sei forte su youtube più tieni le persone su instagram più sei forte su instagram e siamo tutti schiavi del watch time di quanto riesci a far guardare uno spettatore il tuo video mi prendo tutte le colpe perché io sono carnefice e vittima di questo watch time c'è una specie di circolo perché io guardo un sacco di internet guardo 30 ore a settimana di youtube anche 40 perché ci sono miei colleghi bravissimi a tenermi attaccato allo schermo e il loro obiettivo non è spesso mandare un messaggio ma è tenerti attaccato allo schermo tipo attento attento adesso sta per succedere qualcosa in questo video rimani attaccato a guardare perché sta per succedere è tutto un sono diventati degli scienziati in questo perché le piattaforme li li premiano diciamo e quindi sulla questione della responsabilità è il far west internet al momento è veramente a me viene da dire che è la televisione negli anni 20 cioè è totalmente embrionale la televisione in realtà aveva poi una struttura immagino era già impostata internet è all'inizio ed è caotico totalmente caotico dieci anni fa non penso fosse vabbè dieci anni fa ormai sì un lavoro per qualcuno internet ora ci sono quattordicenni che fanno milioni di euro su internet e hanno milioni di spettatori che responsabilità si può chiedere che messaggio si può chiedere al quattordicenne di mandare è un esperto nel tenere le persone incolate allo schermo spesso io spero che quel quattordicenne non mi non mi mandi nessun messaggio ecco in alcuni casi che il tiktoker che lo youtuber che l'instagrammer non non dica ok è ora di è ora di condividere col mio pubblico il mio modo di vedere le cose forse in alcuni casi è meglio che continui a fare l'intrattenimento diciamo e che il pubblico poi venga il pubblico giovane venga educato dai genitori ma lì citando Galimberti i genitori non ci sono i figli sono abbandonati a se stessi sono tristissimi perché non hanno una guida e sono tutti in mano al creator del momento ecco vede professore questo è un punto importante perché noi parliamo delle responsabilità da quel lato ma dall'altro cioè chi è che è incaricato in questo momento di strutturare i ragazzi affinché non siano così influenzabili tanto da chiedere a chi sta da quella parte un'altissima responsabilità rispetto a ogni parola perché la debolezza che c'è in questo momento è una debolezza strutturale del pubblico che è manipolabile influenzabile fin troppo vulnerabile no c'è questa cosa di cui si parla tantissimo questo vittimismo che hanno tutti questo feticismo della fragilità però poi effettivamente quando si parla con i ragazzini con i bambini più piccoli ci si rende conto che sono soli che non hanno strumenti a volte neanche per prendere alla leggera del puro intrattenimento come mai non siamo così come mai non pretendiamo così tanto invece che da quest'altra parte quella dove si formano i ragazzi ci sia la stessa accortezza secondo lei questo è il discorso che dovrebbe fare Luis nei confronti cioè noi qui rappresentiamo due due facce della stessa medaglia dove la medaglia è un po' il disfacimento perché mi ha molto convinto il discorso che ha fatto sul sul fatto che queste questa quantità immensa di ore che vengono passate guardando i vostri i vostri programmi anche geniali anche molto divertenti non è questo che io metto in discussione anzi per fortuna ci sono fiori di professionisti no uno ce l'abbiamo lì però quello che che ha che ha detto Luis è proprio la dimostrazione che questo strumento straordinariamente straordinariamente potente e pervasivo ha come effetto la dispersione ecco adesso la domanda è noi quello che io qui rappresento modestamente il popolo dei vegliardi ecco che cosa dove manchiamo ma intanto diciamoci la verità nei rapporti con i nostri figli con i nostri nipoti c'è sempre un grado di azzardo no perché per fortuna sono sono persone vitali libere e si costruiscono la loro la loro esistenza però non c'è dubbio che c'è una responsabilità nell'indicare strade poi ciascuno sceglierà questo è un compito della famiglia la famiglia sappiamo bene forse perché guardano anche loro i tuoi programmi no i genitori e quindi sono sfilacciati anche loro ma il luogo su cui secondo me ancora bisogna puntare è la scuola la scuola e io dico quando si entra a scuola si entra in classe si fa silenzio e non è solo un modo di dire quando il professore entra in classe dice facciamo neppure fate facciamo silenzio proprio per diciamo avendo incamerato tutte le cose che ci vengono trasmesse attraverso questi strumenti che tutti usano più o meno però questa deve essere una oasi di riflessione di autonomia e di crescita e voi e voi potreste aiutare potreste aiutare potreste per esempio dire cari ragazzi guardate vi facciamo dei programmi divertentissimi pieni di ironia però guardate che non è tutto guardate che è solo un pezzo un pezzo della vostra diciamo del vostro guardare il mondo non guardare il mondo solo in quel modo e questo sarebbe già un messaggio diciamo di crescita culturale straordinario quindi io mi auguro che la prossima volta che vedrò Luis sul mio teleschermo cominci col dire io amo la mia mamma benissimo però voglio anche che voi amiate la vostra mamma e i vostri genitori e guardiate che cosa quali altri modelli ci sono per passare la propria esistenza leggete dei libri studiate perché il mondo mio Luis non è l'unico mondo ecco è verissimo è verissimo è verissimo nel senso lo dico allora l'influencer è diventato il nuovo calciatore no? tra virgolette il ragazzino voleva fare il calciatore ora vuol lavorare su internet vuole fare le live su twitch vuole fare il tiktoker l'instagram lo youtuber e io ho sempre detto ragazzi è pieno di lavori molto più intelligenti cioè se volete fare i soldi fate non so andate a studiare economia fate se proprio volete fate il marketing non lo so il fatto è che sembra che che proprio per proprio grazie alla libertà che ti danno i social poi chiunque può diventare un influencer ci sono effettivamente professori liceali che appoggiano il professori del liceo che appoggiano il telefono sulla cattedra e fa la lezione sia agli alunni che su youtube e c'è e sono seguitissimi effettivamente ci sono dovrebbero i professori e le scuole capire il watch time riuscire a fare quello che fa il creator su internet in classe il ragazzino se ha una soglia dell'attenzione di 15 secondi ormai che è sempre più breve come fa stare attento a tre ore di lezione bisogna che il prof dato che non si riesce a combattere questo internet che il prof si adatti un po' al 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 cosiddetto non mi ricordo come si chiama in inglese alle difficoltà di 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 attenzione che hanno il deficit di attenzione che hanno tutti i ragazzini me compreso sei sicuro che non si possa contrastare invece il deficit di attenzione perché noi non ci possiamo rassegnare al fatto che la nostra soglia di attenzione di 15 secondi cioè una cosa che rende impraticabile la trasmissione di qualsiasi sapere anche la conversazione perché altrimenti significa che tu diversi minuti fa hai smesso di ascoltarci o che io diversi minuti fa ho smesso di ascoltarvi o che loro hanno smesso di ascoltarvi e non è così sono convinto che molti giovani qui hanno smesso di ascoltarvi no non vedo cellulari accesi secondo me sì ce ne sono e siamo su internet magari se questa puntata viene pubblicata chi possiede il canale di biennale democrazia guardi il watch time e i picchi perché ci sono tutti i numeri ovviamente i picchi di attenzione del pubblico vedrete che è così subito i primi 15 secondi tutti aprono il video e quindi sono tutti attenti il primo o secondo poi io la prima cosa che vedo è io vedo un video che non parte vado avanti subito e se proprio è partito ma è metto in per due la velocità cioè si può velocizzare il video lo guardi al doppio della velocità perché non mi guardo un'ora di conferenza e però io invece no perché io invece penso che noi dobbiamo fare in modo che la gente si senta anche in dovere di farlo è un po' il problema degli articoli no cioè noi il giornalismo è uguale ti insegnano che tu devi catturare il lettore nelle prime righe e dirgli il fatto nelle prime righe perché nessuno arriva alla fine del pezzo ma i ragazzini sono degli eroinomani praticamente sono l'equivalente dell'eroinomani capito devi disintossicarli come cioè deve essere un percorso di riabilitazione sono letteralmente si addormentano io oppure mi addormento col telefono acceso capito in overdose ma da che cosa dipende questa cosa qua secondo te chi? da che cosa dipende sono bravissimi a tenerti attento allo schermo i colori le cose che dicono le musichette ma tu pensi che le persone lo chiedo anche a lei professore com'è che a un certo punto siamo diventati affamati soltanto di intrattenimento solo di cose che ci colpiscono e non della scu... guardi la musica io penso alla musica dei Pink Floyd che era lenta che ti trasportava dentro qualcosa che non poteva essere una musica di sottofondo era la musica di immersione in un altro mondo come mai invece adesso è tutto così ribaltato che cos'è che è successo? vorrei tutti e due su questo ve la sarete fatta? ve lo sarete chiesto perché? è la dopamina dicono la... l'instant gratification che ti dà subito quello che vuoi il telefono hai subito qualcosa che la realtà non ti dà la realtà è noiosissima e quindi è un modo di scappare dalla realtà la realtà è noiosa o è insoddisfacente? entra... cioè se non accade nulla per cinque minuti io tiro fuori il telefono ma che cinque minuti? due minuti tiro fuori il telefono e non dico che sia la cosa giusta da fare perché annoiarsi dovrebbe essere nel luismo annoiarsi è sacro bisognerebbe annoiarsi annoiarsi è sacro avere tempi di silenzio è altrettanto sacro però ancora più sacro è riuscire a utilizzare il tempo per appassionarsi alle cose un pochino complicate anche poco dicono gli editori che i libri di testo nelle scuole devono essere costruite non ci può essere una pagina intera scritta dall'inizio alla fine devi avere delle immagini dei colori perché è venuta meno la capacità di concentrazione anche minima e guardate che questo è una cosa molto ma molto negativa e ci fa immaginare cose per il futuro non non gradevoli perché voglio dire adesso parliamo di democrazia la democrazia presuppone che ci siano dei soggetti consapevoli di sé della società in cui vivono e che hanno dei progetti per il futuro ecco è tutto un altro mondo adesso chi è che citava il professore ma il bravo professore è quello che riesce a far capire ai propri studenti quanto è bello avere delle idee loro le loro idee non il professore che inculca le proprie idee ma far crescere la crescita e lo sviluppo è una cosa bellissima ecco io io speravo che lui si facesse una difesa ad oltranza di questa attività invece è più critico lui di quanto non lo sia io assolutamente ma perché lo vivo vedo che non sta andando nella buona direzione nella direzione giusta né nella mia vita né su di me né sul pubblico e allora in qualcuno di questi tuoi spezzoni alla fine cerca di dire adesso ragazzi prendete questa frase segnatevela rifletteteci sopra e magari la prossima volta ritorniamo su questo collegare in un discorso credo nel nel buon esempio è difficile che io dica al mio pubblico leggete se io non leggo non ce la faccio cioè non posso come un genitore che dice al figlio non fumare fuma bimbino voi non fatelo mi raccomando sì però se lasciano un libro sul comodino magari il ragazzino spontaneamente vediamo un po' cosa c'è dentro no ma infatti faccio il possibile diciamo ci provo a dare dei messaggi a dire che non arrivano subito i successi parlo della palestra io parlo spesso della palestra come metafora del fatto che devi lavorare a lungo e con pazienza e non vedi risultati il giorno in cui inizi è una cosa lenta internet non è così è l'opposto vedi anche il video del palestrato che passa da da magro a muscoloso da grasso a muscoloso in 5 secondi e dici oh come fa il ragazzino oggi uno mi ha scritto ho 16 anni e non riesco a staccare 200 chili vi stacco da terra volevo rispondere molla non ci provare cioè non è grave sì ma della serie se a 16 anni ancora non riesci vuol dire che sei un fallito ma cosa ti aspetti ci puoi mettere anche altri 10 anni a staccare 200 chili ma perché tu sollevi 200 chili come niente non più adesso no perché fa male al cervello però sento voglio voglio sono voglio essere positivo che internet è allo stesso tempo un enorme un fantastico strumento per per informare ecco ci sono anche lunghissimi video lenti di approfondimento su temi importanti che vengono visti dall'inizio alla fine è un po' un processo perché penso che che vada anche con l'età perché uno matura su internet magari si stanca dei video brevi e passa i podcast e passa le videoconferenze passa gli articoli e passa a impara a leggere diciamo sento che sta che segue il percorso quasi naturale di un individuo perché con me è stato così se mi avessi detto che sarei stato capace di guardarmi tre ore di video non ti avrei creduto all'inizio invece erano sette secondi video sento che sta maturando internet in questo senso e spero spero che che vada sempre per il meglio il morale dei giovini non fa ben sperato cioè c'è stato un documentario che è uscito durante la pandemia su netflix che si chiama social dilemma e parla degli effetti negativi dei social sui giovani è tutto è tutto ancora in atto c'è un enorme problema i social sono una categoria dello spirito nei social ci sei tu per esempio e quindi lì dentro quello che è appena finito di dire è pieno di aspettative di speranza questo processo di bisogna guardare quello quando io dicevo la responsabilità di chi ha un seguito così vasto può voler dire anche questo e io credo nell'esempio giusto hai scritto un libro però il libro cioè ecco voglio dire professore comunque poi per fermare le sue idee articolarle davvero poi lui ha scritto un libro così come viene i ragazzi i libri li leggono molto di più adesso sempre di più lo dicono i numeri allora questo forse qualcosa ci dice sì ho scritto però perché hai scritto un libro no avendo tra l'altro che si rivolge a una platea inevitabilmente più ridotta poi non lo so è probabilmente invece le stesse persone che ti guardano e ti seguono e ti ascoltano poi sono andate anche a comprare il libro ha maggior ragione a valore questa domanda perché poi anche il libro perché io credo io credo nella carta che la carta è un media è incredibile non si scarica non non si può cancellare sì e non si può cancellare e ne parlavamo prima a cena col fatto che è tutto digitale soprattutto quello che faccio io se dovesse saltare l'elettricità non mi rimarrebbe nulla io non ho fatto niente nella vita ho fatto dei disegni delle sculturine ma la maggior parte delle cose che ho fatto del mio lavoro non esiste non è tangibile sul libro ho scritto ho scritto il libro perché era impossibile stampare un video cioè era impossibile si stampare un video sulla carta penso che ci sia dicevamo prima un po' un futuro perché internet è veramente abbiamo capito che è il far west e le cose vengono anche autogenerate non entriamo nel discorso intelligenza artificiale però l'umano può essere che torni a essere importante l'umano fisico e anche l'oggetto fisico ci pensavo l'altro giorno passeggiando per la città ho visto una scritta sul muro e ho pensato questo forse può avere più attenzione di un post su internet al momento perché internet è esageratamente inquinato è pieno di post è una competizione troppo alta fai una scritta sul muro non dico di farlo però fai una scritta sul muro è molto più probabile che abbia un impatto che venga letta che abbia visibilità internet è veramente sono tutti lì a gridare dammi attenzione perché se mi dai l'attenzione mi dai anche dei soldi dammi attenzione invece se si torna a teatro sul libro eccetera si può costruire probabilmente un seguito più potente anche perché sono tutti su internet se torni a fare una cosa fisica può essere che hai meno competizione e hai più attenzione prima prima che lei arrivasse professore ci raccontavi di come molti ragazzi cercano da soli piano piano e progressivamente di disintossicarsi dai social lo fanno da soli io leggevo su New York Times di questi adolescenti di New York che si incontrano ogni domenica in un parco e si aiutano a disintossicarsi quindi si decidono insieme hanno delle precise ritualità da quest'ora a quest'ora devi tenere il telefono spento ecco vorrei che ci raccontassi anche questo aspetto perché esiste una presa di coscienza da parte dei ragazzi della tossicità di alcuni mezzi quindi quello che tu mi dici trova conferma in questo ma i ragazzi se ne rendono conto da soli però se ne rendono conto perché ti accorgi che non fai progressi che non stai concludendo nulla non stai portando avanti una passione perché sei sempre al telefono ti accorgi che il telefono è il problema ma me ne accorgo anch'io per quello sono critico e effettivamente professore per rincuorarla sono critici pure i giovani effettivamente cioè siamo sono consci secondo me i giovani sono consci del pericolo bene sono dicevo prima sono ho esagerato forse sono dipendenti ecco sono dipendenti e provano a staccarci non l'ho detto questo che ho messo il mio telefono in modalità bianco e nero per una settimana settimana scorsa io non ho capito bene che cosa che cos'è questa cosa della modalità bianco e nero che puoi cambiare il colore dello schermo e vedi solo in bianco e nero per renderlo meno appetibile per dirvi quanto sono attaccato allo schermo tanto che trovavo scorciatoie per comunque vedere i colori perché mandavo le cose ai miei amici che erano vicino a me e dicevo fammi vedere questa cosa che non si capisce bene in bianco e nero l'ho fatto per perché il telefono fosse meno interessante della realtà si è messi male si è messi male e lì effettivamente funziona vi consiglio di provarlo telefono in bianco e nero ci sono i settings per daltonici e c'è la funzione bianco e nero e ho scrollato molto di meno perché era meno appetibile era meno bello e la realtà era a colori molto ovvio però altri invece vanno a letto e mettono il telefono fuori dalla stanza così non si distraggono prima di andare a letto e non si distraggono appena si svegliano io ho delle occhiaie assurde perché lo schermo ti fa male hai queste luci blu un sacco di amici che indossano gli occhiali col filtro polarizzato per evitare di star male siamo veramente attaccati siamo dei moscerini con questa luce attaccati a questa luce siamo all'inizio e stiamo imparando a usare il mezzo la scuola forse ha la responsabilità di insegnare e non demonizzare anche perché il ragazzino non anzi mi hai detto che non è bello adesso vedi come lo uso due volte di più questo telefono perché non lo so io non ho avuto dei grandi insegnanti a scuola ma forse molte persone ne ho tre o quattro di cui sono innamorato e che mi hanno insegnato delle cose importantissime importantissime gli altri fate quello che volete a me pagano lo stesso questa era la frase spesso e non so quanto invece il mio influencer preferito mi dà tutte le attenzioni che voglio è super interessante perché devo ascoltare l'insegnante servono dei bei modelli su internet e ce ne sono tantissimi ce ne sono tantissimi bisogna saperli trovare credo che ci stiano comunque quello che è importante la scuola la scuola è una categoria dell'ospito gli insegnanti è lì il punto che siano capaci di fare quello che dicevi tu vorrei ricordarmi il nome c'è un professore di filosofia seguitissimo sui social che ogni tanto fa sicuro qualcuno lo conosce tanto non mi ricordo il nome quindi ha un nome che che anche filosofo cioè Barba Sofia è un professore del liceo com'è fantastico che ha iniziato mi sa filmandosi mentre faceva le lezioni adesso si filma mentre è in macchina si filma a casa con la bajur puntata in faccia e parla a ruota libera ed è molto critico su tante cose molto politicizzato e ha una sua non nicchia ha un bel seguito abbiamo anche Barbero che è un enorme influencer ci sono un sacco di risorse sul web ecco il ragazzino che vuole diventare quel personaggio si accorge che stare tutto il tempo sul telefono a scrollare non è la strada giusta si se ne accorge da solo perché vedi ecco una cosa di internet la tristezza di cui parlava il documentario social dilemma è data dal fatto che quando scrolli vedi persone che fanno cose interessanti che hanno vite interessanti che sono di successo eccetera e tu che scrolli no o almeno in quel momento ti senti meno meno bello la vita è meno bella di quella che vedi sui social io in particolare faccio il contrario cioè sui social mostro le cose più noiose tra virgolette e poi nella realtà non mi viene voglia di fare la cartolina capito sui social non mi viene voglia di fare la foto al bel piatto o alla bella vista li uso quando sono annoiato e quindi mostro come combatto la noia per quello la noia è sacra per me invece se vedi la rassegnazione del giovane che sta sui social è dovuta al che sfigato che sono come vedo gli altri sono così capaci e quindi non penso che la prendano come motivazione a fare di meglio anzi la prendono come rassegnazione perché c'è una cosa di cui non si parla molto sui social è una lotta di cui non penso che si faccia molto questa lotta la lotta la lotta di classe senza entrare ma si parla un sacco di di tante cose ma non si parla tanto del divario cioè ci sono un sacco di ricchi che possono mostrare la loro vita a dei poveri forse questa cosa non era possibile forse forse c'è sempre stato la regina che arriva con la carrozza d'oro in un certo senso era un po' schiaffare in faccia la ricchezza però non sento una grande mobilitazione del popolo che dice al ricco oh basta almeno schiaffarmelo in faccia sui social spesso il ricco è elogiato e di questo non si parla un granché anche perché il povero finge di essere ricco c'è anche questa cosa è un mito il ricco esatto ma noi non ce ne rendiamo conto però proprio la demonizzazione della povertà che c'è da molti anni ormai cancellata la rendiamo invisibile tanto un vestito brillante ce lo possiamo permettere tutti quanti perché c'è il fast fashion e quindi sembriamo tutti quanti belli ricchi e a posto è assolutamente un tema hai super ragione e peraltro non ce ne rendiamo mai conto di un'altra cosa professore cioè che chi dispone di questi mezzi non dico di internet ma degli smartphone sono già persone di un certo tipo e di un certo livello quando c'è stata la pandemia c'erano i ragazzi a scuola a casa si è discusso ecco soltanto in quel momento della disparità di mezzi gigantesca perché i ragazzi che dovevano fare scuola da casa lezione a distanza non potevano accedere a quella cosa lì la fotografia del paese che è venuta fuori da quel momento era un paese distrutto dalle disuguaglianze e poi questa roba qua ce la siamo dimenticata non c'è dubbio ma quello che diceva Luis è estremamente interessante se c'è una parola che oggi va per la maggiore è uguaglianza hai appena dimostrato che questi strumenti giocano esattamente al contrario perché non non mettono in luce le difficoltà le tragedie che stanno dietro le grandi disuguaglianze e alimentano quello che è il contrario dell'uguaglianza cioè l'aspettativa di andare sempre oltre e superare la normalità no la vita lucente non una vita equilibrata una vita sociale in cui ci sia posto per tutto ma la lotta continua per superare se medesima che produce frustrazione e produce disuguaglianza ecco quando sei riuscito a dire in due parole quello che io ho cercato di dire all'inizio quando mi chiedevo qual è la responsabilità che chi usa con grande efficacia e professionalità questi strumenti dovrebbe dovrebbe avvertire questo è un grande tema le disuguaglianze sì 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 e che spesso ecco una cosa l'influencer che è arrivato nel avere milioni di followers magari ha iniziato che era una persona comune adesso l'influencer lo vedi con la bugatti con il grattacielo nella situazione che è iniziato come il ragazzo della porta accanto la ragazza della porta accanto e ti ha mostrato il percorso di come è riuscito a diventare multimilionari un modello per tutti è uno su mille assolutamente è una lotteria ti vendo cioè ci siamo tutti convinti che il giorno che prendiamo quel gratta e vinci riusciamo a farcela dice dai questo me lo sento che questo è il gratta e vinci giusto ma sui social o effettivamente sei ossessionato o effettivamente una passione cioè a me appassionano i video non riesco a farne a meno che ci fossero stati social o meno io ho iniziato che non esisteva non esisteva c'era facebook ma ero non ce l'avevo neanche quindi diciamo che non regge la sola voglia di far denaro per usare i social e molti si scontrano con questa verità da subito perché ci provano tutti a avere un seguito sui social oggi la buona parte ci provi? no io no perché io sono una ragazza del novecento e quindi anche io esatto però io proprio ho scelto la carta stampata però posti a instagram sì ce l'ho e posti ce l'ho a me non chiedi se ci provi lei usa i social ma perché immagino poi non lo so mi dica lei immagino la risposta lei vuole avere un grande seguito sui social forse sì ma non ci ho mai pensato però potremmo provare con un tiktok guarda mi hai dato una prospettiva però mi devi insegnare gli rudimenti sì ma beh in realtà lei probabilmente un suo seguito ce l'avrebbe istantaneo ma eh sì social ma adesso se ci sono delle domande tra l'altro dal pubblico siamo ben felici saranno ben felici di di rispondere ce ne sono siamo stati ordinati no il discorso era lineare o era un po speriamo chiediamo un rating allora facciamo no non ci sono domande non c'è nessuna domanda dal parte del pubblico o qualche affermazione non lo so hai stroncato tutte le non c'è la domanda non c'è non c'è ah no niente ciao volevo fare sono qui volevo fare una domanda a Luis tu hai detto che passi 40 ore a settimana a guardare video però sei anche un creator quindi mi stavo chiedendo 40 ore sono più o meno un impiego full time e quanta che proporzione di queste ore o comunque quante siano sono di fatto un lavoro di ricerca per poi il tuo lavoro muschio selvaggio i podcast i video il libro eccetera quindi quante di questa parte ricerca potrei dirsi personale e quanto intrattenimento tuo riesci a separarle perché se passi sette ore a guardare un video non so se ti siedi sul divano e poi dici adesso stacco e mi guardo un video potrei allora non so quanta ricerca posso direi che esagero esagero inizia che è un modo di stare al passo con quello che che mi interessa su internet perché sono affezionato alcuni content creator e poi finisce che vengo trascinato dall'algoritmo rimango vittima inizia che dovrebbe essere ricerca e poi vengo risucchiato stavo controllando 31 ore questa settimana 31 ore di video guardato su youtube e sì non è tutta ricerca no grazie grazie a te però quando creo molto le ore che guardo di internet sono bassissime quando lavoro che sto creando cose che le persone guarderanno mi libero finalmente da internet quindi sì provo il più possibile a allontanarmi perché spesso non è che la ricerca porti i suoi frutti anzi mi faccio influenzare e inquinare quello che vorrei fare ecco io ho una domanda ma tu come ti informi per deformazione professionale con internet ok ma sui siti dei giornali o su ok sì quindi dei giorni dei grandi giornali sì e youtube anche ok sì ok il telegiornale esiste no la tv non è collegata al cavo proprio cioè non ho l'antenna l'edicola non esiste mai ok va bene va bene però se trovo una rivista la guardo la rivista invece sì se su questo tavolino lo leggerei il giornale se mi trovo un giornale davanti se ci fosse tra il quotidiano e la rivista scegli la rivista ha più colori spesso ha i colori più vivaci vabbè altre domande io avrei una domanda cioè tu hai detto che siamo eroenomani diciamo e quindi tu di fatto sei il nostro spacciatore che ci sta dando la droga per continuare a utilizzare i social e quindi non va contro la tua etica lavorativa questo cioè hai detto che stare tante ore al telefono come tu stesso lei stesso fa sia un male però di fatto sei il nostro spacciatore ecco sì noi non abbiamo capito niente non abbiamo sentito anche io ho sentito poco diceva che sono uno spacciatore diciamo se la se la droga sono i contenuti io sono lo spacciatore io provo in qualità di quella buona esatto stavo per dire di quella buona trovo il più possibile a dare un prodotto di qualità di una purezza assoluta e che ti faccia sembrare tutte le altre droghe molto meno interessanti della mia ecco e spero che la mia riesca a darti anche qualcosa e la mia è molto limitata perché faccio un video ogni quattro mesi nel senso non sono così prolifico come spacciatore poche ma buone esatto giusto domande per il professore scusate buonasera a me importa adesso in realtà ci aiuta siamo sulla stessa barca siamo sulla stessa barca questo è il consulante tu remi molto più vigorosamente posso? buonasera io avevo una domanda per il professore Platone diceva la virtù di un uomo sta in ciò che fa col potere qual è secondo lei la virtù dei giovani e la virtù degli anziani in questa epoca? qual è la virtù dei giovani e qual è la virtù degli anziani? ho capito bene si sente un po' male sì sì è questa la domanda? sì ok il microfono professore deve professore virtù degli anziani e virtù dei giovani la virtù delle due generazioni dicevi sì sì normalmente si dice da parte dei vecchi la saggezza l'esperienza la moderazione e invece i giovani dicono la stanchezza il pessimismo molto spesso è questo cioè non avere speranza per il futuro l'avere lo sguardo rivolto indietro ai miei tempi questa espressione che ritorna così frequentemente vizi e virtù forse è anche vero che per gli anziani è il tempo è il tempo del ricordo è il tempo del ricordo noi sappiamo che non abbiamo più molto davanti per noi mentre abbiamo forse da recuperare molte cose del nostro passato per noi stessi e anche magari per lasciarle come esperienza vissuta come storie tenendo conto che tra le generazioni non ci sono fratture contrariamente a quello che normalmente si dice no? una generazione contro un'altra generazione intanto perché lo sviluppo storico non mette una generazione dopo l'altra no? non è che ci sono dei tagli muore una generazione e ne nasce un'altra no? è un processo continuo e poi soprattutto perché io credo che ad un certo punto della propria esistenza è giusto fare un bilancio per se stessi ma anche come consapevolezza da lasciare ai più giovani perché i più giovani possono illudersi di cominciare da capo ma nessuno nella nostra esistenza comincia davvero da capo ci portiamo i segni i segni di chi ci ha preceduto e tutto sommato se ci riflettiamo questa è una grande consolazione perché di fronte al tempo che viene a mancare il pensiero che comunque quando noi non ci saremo più qualche cosa di noi rimarrà in chi viene dopo per fare un esempio così pieno di tenerezza la tua mamma che penso che sia molto più giovane di me ma comunque si avvicinerà al tempo in cui anche lei comincerà a riflettere sulle cose ultime potrà pensare ma Luiz ecco io in Luiz vedo delle tracce di me stessa e questa è una grande consolazione quindi le nuove generazioni e più giovani sappiano di avere una responsabilità nei confronti dei più anziani nel confortare questa idea che è quella per la quale forse ci si illude di non morire di non morire del tutto ma di continuare non so se la risposta è che ci passate il testimone che non che come se aveste lasciato dite trattacelo bene no ma scusa questo che ho appena detto segna una grande differenza la progettazione del futuro aspetta a voi noi abbiamo da incamerare l'esperienza da trasmettere a voi ma siete voi che dovete guardare avanti posso sì credo sia l'ultima perché mi fanno segno che abbiamo pochi minuti ok scusate buonasera una domanda velocissima benvenuti grazie faccio una domanda al volo prima per Luis prima hai parlato dei contenuti di come li produci del fatto che i creator attualmente pensano solamente a creare dei contenuti che tengano attaccato l'utente al video per appunto i picchi visualizzazione eccetera però penso soprattutto ai contenuti più ironici comici storicamente la comicità ha sempre avuto dei riferimenti culturali molto forti senza parlare poi della satira quindi ti chiedo quali sono però i tuoi riferimenti culturali cioè da chi trai ispirazione per produrre dei contenuti proprio perché appunto essendo un tipo di contenuto anche comico qualcosa lo devi avere ereditato dal passato ed è una domanda che estendo anche al professor Zagrebeschi che però parzialmente ha già risposto parlando del ricordo della memoria quali sono i valori e i riferimenti culturali che a fronte di quello che ha detto Luis possono essere tramandati alle future generazioni allora sulla comicità sono stato sono cresciuto agli inizi degli anni 2000 sono cresciuto con una sfilza di cartoni demenziali i Griffin South Park cose anche diseducative che non ho grazie alla buona educazione dei miei genitori non ho seguito Jackass non so se conoscete Jackass vabbè chi è della mia generazione li conosce e il cinema un sacco di film un sacco di film dai più demenziali ai meno demenziali dai colossal a a scary movie e una pallottola spuntata quindi questa è la mia poi non saprei citarti tutto ciò che che mi ha ispirato e poi una famiglia con una grande ironia diciamo quindi quello più dei film più di tutto mi ha inquinato in bene e Bologna direi e Bologna che è un ambiente veramente tosto tra virgolette non è che ti non è supportivo ecco se fai una se fai una boiata tutti ti dicono hai fatto una boiata l'asticella è un pelo alta e non puoi deludere le aspettative ecco quindi questo il cocktail professore sicura non credo che la domanda riguardi il fatto che io sia un giurista cioè quali grandi giuristi mi hanno ispirato forse non interessa particolarmente no forse quello che io penso che sarebbe importante ma in estrema sintesi non so dove dove il signore che ha fatto la domanda era in fondo sì 100 metri non lo vediamo quindi pazienza mi spiace piacerebbe guardarlo negli occhi perché sto facendo una considerazione molto molto intima e anche personale una delle cose che io penso di aver imparato e di dover cercare di tramandare è avere nei confronti del passato dei propri genitori della propria famiglia un atteggiamento di pietà di pietie piet pietas come dicono i latini cioè di guardare le cose con il distacco che consente di vedere in ogni circostanza la complessità delle cose non condannare il passato proprio e dei propri da dove si viene e cercare di comprenderlo sperando che noi a nostra volta quando saremo guardati dai nostri figli e dai nostri nipoti potremmo godere dello stesso privilegio della pietas non condannare ma imparare anche naturalmente dagli errori la seconda cosa è che non ha a che vedere direttamente con il diritto è la violenza noi veniamo io voi siete dei millennial no? io sono millennial lui è Zeta giusto? sì non lo so Zeta io vengo da un secolo che è impregnato di violenza violenza incredibile mai sperimentata ecco questo noi dobbiamo cercare di interiorizzarlo e passarlo come testimone come punto di riferimento etico che è quello che spiega tutto spiega tutti i mali del nostro tempo la violenza ma la violenza che non è la guerra solo la guerra in Ucraina i carri armati la violenza nei rapporti quotidiani la violenza in famiglia la violenza nella scuola la violenza nell'informazione quando l'informazione violenta la realtà ecco la la non violenza ecco in una parola solo che è la cosa forse più difficile che esista ma forse la più importante se pensiamo che si debba avere un avvenire ecco grazie 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 va bene va bene allora grazie 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 a voi grazie a voi buona serata buona serata grazie della vostra attenzione grazie 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 a voi 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 grazie a voi